Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Io sono Astro2.0 e oggi siamo tornati in un nuovo video In questo video siamo su Rodeo Stampid E sono andato molto avanti nel gioco da come potete vedere Infatti vabbè oltre all'aggiornamento qui che non mi viene il nome Che è l'aggiornamento... Boh non lo so Da come vedete sono andato molto avanti nel gioco Infatti ci sono molti nuovi animali E in questo video andiamo a sbloccare la giungla Allora tutti vi starete chiedendo Astro come hai fatto ad avere questo abitato a livello 9 massimo Lo scoprirete nel prossimo video No spoiler raga E lo scoprirete Anche questo infatti livello 8 quasi 9 E non vi faccio spoiler Quindi espandiamo 3, 2, 1 Vai E poi Mamma mia quante cose Ok scusate raga era passata una pubblicità E da come potete vedere adesso possiamo avvistare 3 animali Non uno Quindi andiamo subito a giocare Partiamo con l'aquila Non so perché avevo l'aquila Oh è cambiata la musichetta sentite Carina Ecco qua Poi ci sono tutti i nuovi animali Incominciamo a prendere questo che c'è Scusatemi raga Non ero distatto Iniziamo subito Prendiamo subito il nuovo animale Che dovrebbe essere tipo un cinghiale 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 selvatico Sì ho indovinato All'onzo Poi prendiamo Questo non so Mi volevo mangiare Ma non ho capito Questo qui è un gorilla Gorilla Vabbè questo qui si capisce Carina Guardate che bella la faccia C'era un po' la faccia da stupido Però bello Ok Andiamo un po' avanti Il cocodillo Ma il cocodillo Dice nuovo Quindi vuol dire che si può pendere Vediamo se riesco Dai ce la posso fare a pendere Oh quanto è veloce il gorilla Solo che non so cosa fanno Ok raga L'ho preso L'ho preso Ma devo mangiare gli animali O no Dovevo mangiare gli animali Perché questo qui è come il Come si chiama Come il leone Praticamente Se mangi gli animali Lui continua per più tempo Cioè non si arrabbia E' un po' difficile prendere Eccolo Quindi Però è lento Ma voglio se è lento No non me l'ho preso Dai Cammina Sì L'ho preso Il ligatore Ah no Non cocodillo Vabbè sono più a me Mi stavo per mangiare Ok Vai Anche Giuseppe L'abbiamo preso Ok Continuo Ah ma il gorilla Può saltare Cioè Si può saltare Ma intendevo Cioè le cose Può saltarle Vabbè Lasciamo stare Ok dai Allora abbiamo sbloccato Questo nuovo Questi nuovi Te animali Allora Deve costruire Ok Quindi cominciamo Il cinghiale Costruiamo Poi il gorilla Il gorilla 400 L'alligatore Anche lui 400 Mamma mia Raga Una bella sfida No Non questo Ah Ho sbagliato tutto Adesso possiamo trovarlo Questo No Niente E mi sembra Che quindi Non mi pagano Eh infatti Non mi Dà Cioè se io Faccio Ah per lo zoo Non mi dà Il biglietto Perché non ho preso Non ho costruito L'habitat Per quell'animale Quindi Da come penso Anche qua Dovei trovare Nuove specie Ma raga L'alligatore È lentissimo Mi sa che Faccio male A prenderli No Ma che ho fatto Raga Che stupido Che sono Ok Allora Quasi sicuro Ok Questo qui Salta Se si arrabbia Il colino Raga Non riesco a utilizzare Cioè perché non conosco Questi nuovi animali Allora So che se vado vicino Al coccorillo Mi mangia Se ci vado vicino Però Però Se Il gorilla Non so cosa fa Se si arrabbia L'alligatore Probabilmente Quasi Sicuramente Mi mangia Però Gli altri Non so cosa potrebbero Mai fare Le paluditi Cioè Ti rallenta Un sacco Questa Ma sono tutti I cinghiali Ah vabbè Giusto No Cioè Normale Che sono tutti I cinghiali Però Intendevo Che non trovo Ancora Una nuova Specie Ma io Oh Un abbinamento Facciamolo Facciamolo Voglio Il cucciolo Di alligatore Dai 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 Mangia 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 Ok Vai Perfetto Adesso Possiamo fare Il cucciolo Di alligatore O O forse Sto già Facendo qualcuno Aiuto Ho notato Che questi Cinghiali Si arrabbiano Subito Cioè Quasi Subito Questa parte Un po' Baggata I cinghiali Quando si arrabbiano Vanno Velocissimi Record Quando il cinghiale Salta sulla Quest Tenissimo Perché Continua A saltare Ulco Ma Mi danno Una spinta 2000 metri Aiuto Raga ma Non troviamo Ancora Nessuna Nuova Specie Mi stavo Per mangiare L'alligatore Raga ma Com'è Che non Trovo Ancora Nessuna Specie Nuova Mamma mia Aiuto Oh ma Tampoco Faccio 10 Ho parlato Ho parlato Ho parlato Meglio che sto Dendo Facciamo L'allevamento Quindi Vediamo Quanto tempo Ci mette Urco Un'ora Pensavo Di meno Vabbè Da come notate Qua non c'è L'alligatore Che trova Ovviamente E Peccato Perché Io pensavo Per questo Video Che quando Ave Espanduto Che non Si dice No Espanso Vabbè Lasciamo Stare Quando Ave Aperto La Zona Pensavo Di avere Che mi Sbloccava Solo Uno Cioè Tipo Questo E quindi Mi serviva Solo Cioè Mi bastavano I soldi Per solo Un habitat E invece No Vabbè Questo Qui È Un Nuovo Evento Però Non posso Farlo Questo Qui È Un Animale Che mi Sono Preso In Via Di Estinzione E Praticamente Continuo A Fare Così Poi In Questi Giorni Ho Preso Tanti Nuovi Animali Ma Anche Questo Che Non Si Vede È Bu Ferrari Che Non Sto Dicendo Bu Nel Senso Che Butta Che Bu Si Riferisce A Bue C'è Bufalo Ferrari Si Riferisce Non Come Per Dire Buf Ferrari Vabbè Facciamoci L'ultima Partita Nella Savana O Nella Giungla Facciamo Savana Poi Andiamo Nella Savana Cioè Siamo Già Nella Savana Che Sto Dicendo Poi 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 Concludiamo Il Video Ok Sto Facendo Un po' Il Pazzo Tenendo Sempre Lo Stesso Animale Vabbè Dai Cambiamo Ok Mamma mia Per un Pelo Mangiamo Mangiamo Così Andiamo Più Lontano Perché Più Animali Mangio Con Il Leone E Più Il Leone Non Si Arrabbia Ecco Se Si Arrabbia Mi Mangia Non So Se Succede Anche Con L'alligatore Mamma mia Che Rischio Tanto L'abbinamento Non lo Posso Fare Leone Ok Leone Può Mangiare Anche Le Giraffe E Ciao Come Faceva Ada Ero In Mezzo Agli Albi Vabbè Oh Alligatore Posso Migliorare Lo Zoo Vediamo Vabbè Anche Questo Ma Non Ha Senso Prima Mi Facciamo Gorilla Gorilla È Felice Ok Quindi Per questo Video Questo È Tutto Spero Che Vi Sia Piaciuto E Se Vi Piaciuto Lasciate Un Bel Like Iscrivetevi Il Canale Se Vi Piacciano I Mie Video E Attivate La Campanellina Per Non Perdervi Nessun Il Prostimo Video Quindi Noi Ci Vediamo In Un Prostimo Video Ah Vi Informo Che Ieri C'è Stato Il Mie Compleanno Quindi Ho Ricevuto Un Nuovo Volante Cioè Un Nuovo Un Volante Con Di Di Iver Un Gioco Di Camion Vabbè Te H Ok Quindi Prossimo Per Espandere Mi Serve Potenza Il tuo Abitante Cinghiale Altre Te Volte Così Tanto Vabbè E poi Costa 1400 Pure Poco Dai Quindi Ci possiamo Beccare In un Prossimo Video Ciao 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 Ciao